Cominciamo allora dalla riete. Per parecchi questa giornata potrebbe non essere il massimo, quindi l'umore non potrà essere certo dei migliori e le stelle non agevolano sicuramente il normale scambio di informazioni al lavoro. Toro, se volete affetto e dolcezza, cercate di darne voi per primi. Negli ultimi tempi siete diventati troppo irascibili. Cercate di dividere la sfera lavorativa da quella sentimentale. Gemelli, oggi avrete particolare entusiasmo. Approfittatene per stringere nuove conoscenze che vi aiuteranno a raccogliere informazioni preziose per la vostra attività. Fate però attenzione a non combinare pasticci con i soldi. Cancro, siete piuttosto seri oggi. Imparate a sorridere di più. Anche chi vi circonda lo apprezzerebbe e forse questa sera avrete qualcuno con cui uscire. Date un taglionetto a eventuali cattive abitudini alimentari. Leone, riflettete a lungo prima di lanciarvi in situazioni sentimentali difficili o poco chiare già in partenza e siate cauti di fronte ad eventuali occasioni o offerte rivoltevi da persone sposate o comunque impegnate. Vergine, cercate di vivere la coppia con la stessa creatività che mettete nel lavoro. Anche se il rapporto non è più un uovo di zecca, potete trovare ancora abbondanti spazi per stare insieme. Bilancia, entro la mattinata sbrigherete al meglio le commissioni noiose che avevate rimandato. Ne uscirete stanchi ma sicuramente sollevati. Concluderete la serata nel migliore dei modi, la vita sociale sarà al top. Scorpione, il lavoro vi chiederà più impegno e presto verrete ripagati dei sacrifici fatti. Una persona che vi interessa vi chiederà di uscire. Accettate l'invito senza esitare, passerete una magnifica serata in sua compagnia. Sagittario, avrete la tendenza a commettere imprecisioni sul lavoro per scarsa motivazione. Le stelle però vi danno la lucidità e l'intuito per trovare una brillante via d'uscita. Capricorno, ritagliate più tempo da dedicare a voi stessi e in particolare al vostro benessere fisico. Un'ora di palestra, per esempio, vi rimetterà in forma e vi aiuterà a smaltire qualche chiletto in più. Un amico vi proporrà una collaborazione lavorativa. Acquario, oggi i pianeti vi danno intuito e lucidità in abbondanza, consentendovi di inventarvi nuove strade entusiasmanti da percorrere. Pesci, le stelle oggi vi rendono ombrosi e particolarmente nervosi. Difficile sarà sopportarvi. Contate fino a 10 prima di aprire la bocca ed evitate di intavolare discussioni per il puro gusto di fare una ripicca. Grazie. Grazie.